Buongiorno amici e benvenuti nel video dei pronosticci di WWE King and Queen of the Ring 2024 Oggi sono da solo e tra l'altro anche poco tempo, quindi il video sarà molto rapido E dunque partiamo subito col primo match della serata Finale del torneo maschile King of the Ring Gunter contro uno tra Randy Orton e Tamatonga Ovviamente SmackDown andrà non da venerdì, oggi che sto facendo il video è martedì Non ha senso aspettare fino a venerdì notte perché poi il video non lo vedrebbe nessuno da lì a sabato Quindi io mi sono già fatto un'idea comunque di chi potrebbe vincere il torneo sia maschile che femminile Penso che vincerà Gunter a prescindere dal suo avversario che secondo me comunque sarà Randy Orton In ogni caso Gunter è giusto che vinca perché questo torneo gli può dare il giusto rilancio Dopo la sconfitta di WrestleMania per il titolo intercontinentale Poi finale femminile, Lyra Valkyria contro una fra Bianca Belair e Nia Jax Anche qui non importa chi arriverà da SmackDown perché penso che le cose siano già chiare Ecco, quando non si fosse capito, Lyra è destinata a riaffrontare Becky Lynch per il titolo femminile Dopo i loro trascorsi e NXT per il titolo femminile dello show giallo Quindi Lyra andrà a vincere il torneo E questa cosa le darà quello slancio giusto per un grande rematch contro Becky Lynch prossimamente Poi parlando di Becky Lynch, la campionessa in carica dovrà difendere il suo titolo dall'assalto di Liv Morgan So che tutti ti feranno Liv Morgan, me compreso Ma vincerà Becky Lynch perché è destinata ad affrontare Lyra Palese, signori palese Quindi poi passiamo al triple threat match valevole per il titolo intercontinentale Match che si prospetta interessante Semi Zane che difende il titolo contro Chad Gable Brunson Reed Io penso che qui Semi Zane manterrà il titolo come grande classico di quando sono in match con più atleti Questa cosa tende a favorire di solito il campione E penso che ad essere schienato sarà Brunson Reed Perché la rivalità penso che andrà avanti fra Zane e Gable Perché Gable, anche dopo quanto ho visto a Raw, sappiamo che probabilmente avrà di nuovi alleati Forse i fratelli Creed Quindi avrà una costruzione ancora più importante nei prossimi periodi E magari potrà anche diventare campione Però al momento no, al momento Semi Zane deve ancora vincere Poi passiamo al main event della serata Valevole per il titolo indiscusso Quindi da un lato il campione in carica Cody Rhodes Dall'altro lo sfidante il campione degli Stati Uniti che non difende mai il titolo Che viene spacciato per l'atleta full time ma che in realtà è un atleta part time E che sta lì soltanto per lo sponsor delle bibite Logan Paul Perché diciamo delle cose come stanno Match che ovviamente vincerà Cody Rhodes Signori abbiamo già visto a SmackDown un faccia a faccia nel backstage fra Logan Paul e The Lay Knight Quindi è palese che i due si affronteranno in seguito per il titolo degli Stati Uniti Quindi Logan Paul ha adesso questa grande chance contro Cody Altra grande chance in Arabia come accadde un paio di anni fa contro Roman Reigns Ma il risultato sarà sempre lo stesso Quindi Cody vince, Logan perde anche questa occasione titolata E niente ragazzi questi sono i pronostici Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono i vostri Grazie mille a tutti quanti per aver visto il video L'evento sarà disponibile soltanto su WWE Network Mi raccomando sabato sera Se volete troverete venerdì sera verso l'ora di cena in diretta Solo su Discovery a pagamento la puntata di SmackDown Che sarà sicuramente bene da vedere in diretta E quindi grandi orari comodi per noi italiani Sia per SmackDown che per King & Queen of the Ring Bene ragazzi, grazie ancora a tutti E ci vediamo molto presto Penso sabato notte per la recensione dell'evento Grazie ragazzi, a presto, ciao Ciao